. Anticipazioni Uomini e Donne Oggi 30 marzo, Sossio perde le staffe Nuovo appuntamento Oggi 30 marzo su Canale 5 con Uomini e Donne Trono Over. Alle 14.45 andrà in onda la seconda parte della registrazione di questa settimana che come sempre sarà caratterizzata da grandi colpi di scena. . Ieri pomeriggio abbiamo avuto modo di vedere che tra Tina e Gemma ancora una volta ci sono stati dei momenti di tensione e tra le due donne sono volate ancora una volta parole grosse. Spoiler Uomini e Donne Oggi 30 marzo, scontro tra Sossio e Riccardo nel dettaglio, infatti, la Galgani non ha gradito per niente lironia di Tina che ancora una volta la prese in giro con la fatidica mummia che per l'occasione ha travestito da coniglietta di Playboy. . 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